And the best at the least Marti! Ehi, bambolona mia! Ammazza che figa che sei! Ehi, fregna io, fregna tu! Guarda che l'ho vista quella storia, Zè, con le boccione di fuori! Ti indovina per chi l'ho fatta? Ah, giusto! Ma com'è andata poi? Ehi! Eh, racconta! L'altra sera abbiamo parlato due ore Ci siamo aperti molto, è stato molto bello conoscerci Ma scusa, come avete fatto a vedervi? No, su WhatsApp! Ah, su WhatsApp, infatti! E beh, lui com'è, figo? Non lo so perché mi ha mandato solo una foto Del... Perché? E tu? Ammazza! Sentiamo Ho una notizia bella, 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 bella Bella, 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 bell, bella, 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 bella Bella, 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 bella. Da quest'anno conduco CCN. No, ma davvero? Madonna che brava amichia, guarda io lo sapevo, amore mio ti giuro lo sapevo. Ti posso dire che questo è il tuo momento e te lo meriti tutto? Grazie amo, sono molto felice e ho qualche deuza. In campo di dei sei la numero uno, bomberona mia, brava. E mi piacerebbe che tu facessi parte del cast. Martina? Ma come ti permetti? Che? Scusa Michele ma tu ti sei vista? Perché scusami tu saresti più fregna di me, sentiamo? No, non ho mai detto che... Guarda che quella story, quella di cui parlavo prima, Michele era ridicola, non te l'ho detto. Ma Martina forse non ci siamo capite, io ti ho chiesto se vuoi far parte del cast del mio programma. Sì, l'ho capito, il cast è il tuo programma appunto. Ma una cosa carina, io amo il tuo lavoro, penso che... Tu pensi che io sia molto più brutta di te? È un cesso praticamente, no? Eh? Sai, ovvio, se tu mi chiami è perché ti senti molto più figa di me, se no non mi vorresti al tuo fianco, no? A meno che non sei scema. Ma che cosa c'è? Sei scema? Sei forse scema Michela? Dimmi un po', sei scema? Martina, tu ti devi fidare di me però. Perché io credo che tu sia veramente un artista. Io voglio solo il merito per il mio programma. Vabbè, comunque accetto. Sono molto felice. Senti, non ti puoi mettere i tacchi e il trucco leggero, va bene? Ma lo dici a me, avrò a chi mi trucca, no? No, c'è solo il mio. Sai, insomma, questioni coronavirus, pandemia, sai com'è. Ma non è il trucco? Ciao, 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 ciao. Cioè, mi devo truccare adesso? Cesso. Cioè, mi devo truccare adesso?